Ciao a tutti, oggi nuovo video ma soprattutto video importantissimo dove andremo a vedere la mia valutazione attuale su Enphase. So che tantissimi di voi ce l'hanno in portafoglio e per questo che, visto che ieri è uscita la trimestrale e visto che sono sicuro che siete molto interessati a sapere la mia nuova valutazione, ho deciso oggi di portarvi il video. Vi volevo ringraziare tantissimo per il supporto che mi avete lasciato negli ultimi due video perché è stato immenso, sto vedendo che il lavoro sta pagando e quindi vi ringrazio. Detto questo non perdiamo tempo e cominciamo subito con il video. Per chi non lo conoscesse Enphase è uno dei più grandi player statunitensi ma come vedremo dopo anche mondiali per quanto riguarda la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica tramite pannelli fotovoltaici. Questi sono semplicemente alcuni prodotti che offrono, ad esempio questo qua è una batteria portatile, questi sono i charger per le macchine elettriche e questi non sono altro che i microinverter di ultima generazione, gli IQ8. Giusto per darvi un'idea stiamo parlando di un'azienda che capitalizza addirittura 30 miliardi di dollari, cioè un valore che è probabilmente più grande di quasi tutte le aziende italiane che ci sono quotate in borsa. Ha avuto una performance da inizio anno del meno 14% ma dopo vediamo il perché. Nell'ultimo anno ha avuto una performance del 50% e negli ultimi 5 anni addirittura del 9000%. E semplicemente dopo andremo a vedere se ai prezzi attuali potrebbe essere una buona occasione o no. Come sempre sono andato a leggermi un po' la trimestrale e la conference call e vi ho fatto un elenco puntato dove ci sono scritte le cose che secondo me sono più interessanti da andare a vedere. Ve lo ingrandisco un pelo così leggete bene. Allora la prima cosa impressionante è il fatto che Enphase ha aumentato il suo fatturato anno su anno del 75%. Infatti ha registrato 724 milioni di dollari di fatturato nell'ultimo trimestre ed ha spedito addirittura 4.9 milioni di microinverter. Dei 4.9 milioni di microinverter spediti circa il 55% erano gli microinverter IQ8 di cui vi ho parlato prima che sono quelli di ultima generazione e che hanno margini più elevati e sono anche molto più efficienti. Se vi ricordate prima vi ho detto che l'azienda è uno dei più grandi player statunitensi ma anche nel mondo. Pensate che addirittura il 29% del suo fatturato attualmente deriva dal mercato maggiormente europeo. In Italia non è tanto presente ma in paesi come Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna è molto più presente. Pensate addirittura che in Europa la crescita è stata del 130% anno su anno e addirittura del 21% trimestre su trimestre. Pensate che Enphase aveva già detto che nei prossimi anni si aspetta una crescita del 70% anno su anno in Europa e come vedete non sta avendo problemi a rispettare le previsioni. Enphase ovviamente per permettersi ritmi di crescita così elevati ha dovuto effettuare acquisizioni importanti negli ultimi anni. Una delle più importanti sicuramente è quella di Greencom Networks che come ci dice il CEO nella conference call ha permesso ad Enphase di espandersi anche in altri settori come quello che vi dicevo prima, avvero degli EV Chargers. Pensate infatti che nell'ultimo trimestre Enphase ha addirittura spedito 7600 caricabatterie per veicoli elettrici con un aumento trimestre su trimestre del 20%. E questo è stato principalmente anche dovuto al fatto che Enphase ha avviato la produzione di quest'ultimi in Messico che ovviamente ha aumentato la capacità e ridotto i costi. Per quanto riguarda i dati di bilancio una cosa che mi ha fatto impressione è il fatto che Enphase in ultimo trimestre abbia presentato margini lordi del 43.8% rispetto al 40% del Q4 2021 e del 42.9% del trimestre precedente. E pensate che l'utile per azione è aumentato del 106% anno su anno. A coronamento di tutto ciò il free cash flow per l'ultimo trimestre è stato di 237 milioni di dollari. E tutto questo ha portato Enphase ad avere cash e cash equivalente a bilancio di circa 1.6 miliardi di dollari. Per continuare l'espansione europea ma mondiale Enphase ha annunciato che nel 2023 l'azienda avvierà la produzione anche in Romania. Inoltre ha anche deciso di aumentare la produzione negli Stati Uniti principalmente per due motivi. Il primo è che la domanda è incredibilmente alta e la seconda è l'IRA, l'Inflation Reduction Act, che aiuterà appunto Enphase a riportare la produzione negli Stati Uniti ed aumentare la produzione locale appunto. Infine il management ha semplicemente dichiarato di continuare a concentrarsi sul lungo termine in quanto vede un lungo percorso di crescita e come vi dicevo prima prevede di beneficiare dell'aumento delle domande di energia solare come motore di crescita secolare. Ora che abbiamo finito di fare l'analisi dell'ultima trimestrale andiamo a vedere un po' di numeri. Infatti andiamo a dare una valutazione al nostro patrimoniale, al conto economico e poi andiamo a vedere un discounted cash flow e una valutazione sui multipli. Per quanto riguarda il suo patrimoniale non abbiamo nessun tipo di problema, infatti abbiamo cash e cash equivalent superiori ai debiti di lungo termine e per quanto riguarda la situazione a breve la situazione non cambia perché come abbiamo visto prima Enphase ha addirittura 1.6 miliardi di cash a breve e praticamente zero debiti. Per quanto riguarda anche il conto economico non abbiamo sostanziali problemi, abbiamo però un ROI che si sta alzando tantissimo, infatti addirittura un 18% di ROI che è molto elevato considerando anche che Enphase attualmente non è ancora grandissima, il ROI è altissimo perché è del 71% e vedremo nei prossimi anni magari quando Enphase rallenterà un po' la crescita di aumentare un po' il net margin e le bid margin. Comunque la valutazione è molto elevata, infatti addirittura 7.78 su 10, quindi perfetto. Ora vediamo però qual è un po' la parte dolente di Enphase, ovvero la valutazione dei multipli. Pensate che attualmente ho un PE molto elevato, un price to free cash flow di 43, quindi molto molto elevato. Sicuramente la cosa che non mi fa impazzire è il fatto che ci sia un PEG di 1.87 e questo dito principalmente al fatto che avendo un PEG di 46 e stimando una crescita del 25% all'anno per i prossimi 3 anni, appunto otteniamo un PEG di 1.87. Considerate sempre che un PEG perfetto per me è sotto l'1. Detto questo però, come dicevo prima, stimo una crescita di utile operazione fra 3 anni all'incirca di un 25% all'anno e questo ci porta ad avere un'utile operazione fra 3 anni di 9 e un PE fra 3 anni di 33 che ci porta ad avere un prezzo fra 3 anni di 300 e quindi un possibile guadagno di 38% da qua a 3 anni. E questo, a mio avviso, non ci garantisce ancora un margine di sicurezza abbastanza elevato. Per me un buon prezzo potrebbe essere intorno ai 189 dollari per entrare perché ci garantirebbe un margine di sicurezza più elevato. Per quanto riguarda invece il discounted cash flow, otteniamo un fair value intorno ai 250 dollari che ci garantirebbe ai prezzi attuali una sottolotazione del 15%. Detto questo fatemi sapere la vostra votazione su Enphase e niente ragazzi ci becchiamo al prossimo video, ciao a tutti!